Una buona serata dalla redazione di Teletruria, l'appuntamento con le nostre breaking news. Cominciamo dalla cronaca, un 76enne morto schiacciato da un trattore, l'incidente è accaduto alle 14.15 in località Bezza nel comune di Capolona. L'uomo stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando per cause ancora tutte da accertare ha perso il controllo del trattore finendo travolto dal mezzo. All'arrivo dei soccorsi il 76enne era già deceduto sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini. Parliamo anche del weekend con la fiera antiquaria di Arezzo che per l'occasione compie 54 anni e avrà molte collaterali, tra cui un'asta molto importante di oggetti di antiquariato e poi l'evento nazionale, un raduno nazionale di dendi. Lo sport, calcagni e risaliti sono i primi nomi per Giovannini, prime indiscrezioni dunque sui giocatori che potrebbero vestire la maglia dell'Arezzo nella prossima stagione. Ed è tutto per le nostre ultime notizie, grazie per averci seguito. Vi ricordo che le notizie di Teletruria oltre che in tv potete trovarle anche sul nostro sito e sui nostri canali social. A tutti voi un buon proseguimento con i nostri programmi.